La stitichezza è un problema di molti, alla dose giusta per ognuno, 7-8 gocce per gli avuti o più gocce all'occorrenza, è in odore e in sapore, tutti lo possono prendere in famiglia, anche i bambini e le donne in gravidanza, seguire attentamente le avvertenze e le modalità d'uso. La stitichezza è un problema di tutti, alla dose giusta per ognuno, 7-8 gocce per gli avuti o più gocce all'occorrenza. La stitichezza è un problema di molti, alla dose giusta per ognuno, 7-8 gocce per gli avuti o più gocce all'occorrenza, è in odore e in sapore, tutti lo possono prendere in e anche i bambini e le donne in gravidanza, seguire attentamente le avvertenze e le modalità d'uso.